A una settimana dall'esordio in campionato, previsto contro il Gaeta in trasferta sabato 16 settembre, l'Andrea di Cidra Pallamano Ragusa ha presentato la società, l'organico e gli sponsor, i tifosi e gli organi di informazione. Nella conferenza stampa tenutasi sabato sera al Domus Avria Resort, il presidente Giuseppe Giras ha illustrato i programmi della nuova stagione, che per la prima volta vedrà un sodalizio ragusano di handball partecipare al campionato della massima serie, l'A1-Girone C, ricordando pure l'amministrazione comunale quali sono le criticità da risolvere prima dell'inizio del campionato. Il campionato è molto impegnativo perché saremo la matricola nel Girone delle Grandi, quindi sarà molto ma molto impegnativo. Infatti l'obiettivo che ci siamo preposti è quello della salvezza. Chiaramente non possiamo aspirare ai risultati avuti l'anno scorso, salendo dalla serie B alla serie A2, che quest'anno non sarà possibile perché andremo a scontrarci contro i mostri sacri della palla a mano. Oggi la preoccupazione maggiore è il nostro palazzetto, cioè il nostro campo di gioco, perché purtroppo ancora non è pronto. Questo ci lascia parecchio preoccupati perché la federazione ha già fatto un sopralluogo, dandoci in deroga l'ok per poter giocare, ma ci sono alcune situazioni, alcune migliorie e alcuni interventi che devono essere fatti che oggi per un motivo o per un altro, diciamo una settimana dall'inizio del campionato, non sono stati ancora fatti. Le istituzioni ci stanno rassicurando, dicendo che riusciranno a fare in tempo, però la prima partita e la prossima settimana giochiamo fuori casa a Gaeta, ma nella successiva, fra 15 giorni, siamo a Ragusa. E quindi per quella data deve essere tutto fatto perché rischiamo grosso il livello societario. Presente è anche l'assessore allo sport del comune di Ragusa, il vice sindaco Massimo Iannucci, che ai nostri microfoni ha preso impegni chiari per risolvere le criticità presenti al palazzetto dove gioca la squadra. La pallamano a Ragusa, l'Andrea Licita, ci ha dato grosse soddisfazioni. Quando è stata la volta dell'A1, l'abbiamo ricevuta in consiglio comunale, l'abbiamo premiata, proprio perché lo sport a Ragusa sta avendo dei successi incredibili. Questi ragazzi hanno tutte le caratteristiche per fare bene anche in A1, quindi noi non siamo secondi a nessuno, lo dimostra a Ragusa lo sport fra i ragazzi in piena attività. E quindi io, come amministrazione comunale, staremo sempre vicini all'Andrea Licita Pallamano. Noi stiamo intervenendo dove loro si allenano e fanno le partite, cercando di creare altre tribune. E anche, siccome da quest'anno hanno un'intesa con Sport Italia, che riprenderà le partite proprio in full time, quindi stiamo cercando di creare le condizioni reali per poter vivere al meglio queste attività. La squadra Andrea Licita è formata dai seguenti giocatori. Cristiano Alberto Anzaldo, Davide Schembari, Massimiliano Esposito, Federico D'Alberti, Christopher Ficili, Il tecnico Salvatore Russ ha chiarito che la preparazione atletica procede sotto i migliori auspici. La preparazione è iniziata presto, il primo decosto, perché presto inizia il campionato. Appunto, il 16 c'è la prima partita, perché quest'anno ci sarà la ristrutturazione del campionato e quindi andremo a fare noi, oltre alle 18 partite di campionato normale del regular season, altre 9 partite, quindi in tutto faremo 27 partite. E per questo hanno dovuto anticipare, diciamo, di tre settimane l'inizio canonico del campionato. C'è stato un cambio in porta, perché non è potuto venire per problemi, diciamo, familiari a Vierre Anzaldo, il portiere dell'anno scorso, ed è venuto suo fratello argentino, giustamente anche lui, Chris Anzaldo. E poi il nuovo innesto è stato Massimo, che giocava a Palermo, e che è stato l'unico innesto di quest'anno. Per il resto siamo tutti gli stessi giocatori dell'anno scorso. L'anno scorso è stato un campionato molto più semplice di quello che andremo ad affrontare quest'anno. Abbiamo iniziato presto la preparazione, perché abbiamo un gap da colmare rispetto alle altre squadre, molto più esperienti, ma noi non ci perdiamo d'animo, cerchiamo di dare il nostro. Sarà un campionato molto lungo e difficile. Veniamo da due campionati e due stagioni importantissime per noi, perché abbiamo avuto una crescita esponenziale. Quest'anno non arriviamo con la presunzione sicuramente di vincere il campionato. Ma lottiamo per la salvezza e con la voglia, come hai detto tu, combattiamo per far capire che anche il movimento in Ragusa esiste nel mondo della palla a mano. È intervenuta anche l'Andrea Licitra, titolare dell'omonima azienda di marketing, che ha legato il suo nome a quello della palla a mano a Ragusa. Per noi è stato un onore sposare questo progetto e portare il nome della città di Ragusa in alto, in Serie 1. Già dell'anno scorso abbiamo affrontato il campionato nel migliore dei modi, abbiamo ottenuto ottimi risultati. Vediamo quest'anno, quest'anno sarà dura, sarà difficile, vediamo i risultati che arriveranno. Però la cosa importante è l'entusiasmo che questi ragazzi mettono in questo sport e soprattutto dobbiamo portare più gente che segue questo sport perché è veramente bello e deve essere più gente presente al palazzetto durante le partite per incitare questi ragazzi. Ripeto, il suo entusiasmo è allucinante e solamente grazie ai ragusani possiamo portare avanti questa squadra. Siamo ancora in attesa, sperando appunto di modifiche al palazzetto, dunque sappiamo che l'amministrazione si sta muovendo. Erano presenti anche i rappresentanti degli altri sponsor che si sono detti convinti che la strada da percorrere assieme porterà proficui risultati. Una delle iniziative che abbiamo nel programma di comunicazione di Abiumed è che è un'organizzazione di produttori di ortaggi della Ragusani ma che ha ovviamente spazi in diverse province della nostra Sicilia e crede nel coniugare lo sport come pratica sportiva, strumento di aggregazione per i ragazzi e anche un modo per veicolare l'informazione sui benefici che può portare l'ortaggio, l'ortofrutta, il consumo di ortofrutta nella dieta degli sportivi. Per tutti gli appassionati e simpatizzanti è stato creato l'hashtag Evamos da Gianpaolo Battaglia che cura la parte grafica e social della squadra ragusana. Grazie a tutti.